Signor Sindaco, Vintimiglia che sappiamo bene i problemi che ha dovuto affrontare, che sta ancora affrontando da oggi la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. Un legame importante con la Polizia per quello che riguarda l'ordine pubblico e anche il ricordo di una persona che purtroppo ha perso la vita proprio mentre era in servizio qui nella città di confine. Sì ma soprattutto si voleva premiare il lavoro ordinario quotidiano che fanno ormai dal 2014 tante donne e uomini della Polizia di Stato. Un lavoro ordinario spesso stancante, anche profondo dal punto di vista umano. Quindi era un piccolo gesto simbolico per riconoscere questa attività che l'APS fa tutti i giorni sul nostro territorio. Un'attività fra l'altro delicata perché avrebbero potuto anche sfuggire di mano determinate situazioni qui a Vintimiglia e invece così non è stato. Questo a maggior ragione è stato proprio un atteggiamento di comprensione del momento che avviene solo, lo può fare solo chi ha una grande professionalità, una grande capacità di leggere le situazioni. Quindi a mio avviso è qualcosa che la città di Vintimiglia, tutta la sua comunità deve alla Polizia di Stato che sono stati quelli senz'altro più impegnati. Vorrei anche ricordare però tanti uomini e donne dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria. Sono tanti, sono tanti davvero le persone che hanno collaborato su Vintimiglia. Quindi è giusto dare un riconoscimento. Perfetto Sabino, una giornata importante per la Polizia di Stato, in particolare qui a Vintimiglia dove l'impegno è stato tanto e continua a essere pressante, possiamo dire. Assolutamente sì, è una giornata importante perché ai ragazzi di Vintimiglia, del commissariato, della Polizia di Stato, delle specialità, viene dato un riconoscimento per l'importante lavoro che viene fatto su un tema così importante che è l'immigrazione, che ci vede schierati in prima linea e impegnati fortemente qui a Vintimiglia come a Como, come sul Brennero, come sui posti di accoglienza nel sud Italia. Fa piacere vedere questo riconoscimento che viene dato al lavoro quotidiano, notturno, diurno, continuo, nei giorni di festa, a questi ragazzi. Sono veramente contento. Il simbolo di chi non si risparmia può essere anche quell'uomo qui in servizio, quel poliziotto qui in servizio che è colto da malore e purtroppo ha perso la vita lavorando. Assolutamente sì, Diego Turra è uno dei tanti nostri caduti, ne abbiamo purtroppo, quando facciamo i conteggi dal 46 in avanti, sono alcune migliaia caduti solo dalla Polizia di Stato, non cito il numero elevatissimo di feriti. Diego Turra è uno di quelli che in una situazione di criticità, quindi quando le tensioni sono alte, il cuore grande e generoso di Turra ha ceduto.